Il giorno e la storia. Oggi è il 15 febbraio. 1944. I bombardieri alleati distruggono Monte Cassino. 1898. Nasce Antonio De Curtis, in arte Totò. 1977. Arrestato Renato Vallanzasca. Commenta il fatto del giorno Alberto Faustini, direttore di Alto Adige e Trentino. Oggi parlo di un profeta importante per questo paese e per la chiesa del mondo, Carlo Maria Martini.